oggi andiamo a vedere come andare a formare uno degli airdrop che secondo me potrà dare di più o meglio non secondo me è abbastanza di consenso questa cosa però è stato un airdrop che è stato più o meno trascurato comparato ad altri però potrebbe dare molto ed è l'airdrop di scroll l'airdrop di scroll è in varie fasi quindi abbiamo avuto la fase 0 che vi dava dei punti che vengono chiamati marks in base a quanto capitale avevate su scroll quando è finita la session 0 quindi vi hanno dato dei punti questi non sono più modificabili quindi mettere più capitali fermi su scroll al momento non dovrebbe cambiare niente da notizie che ho da insider non dovrebbe cambiare niente però potete ancora farmare ad esempio la session 1 e se ci saranno session 2 3 così via quindi abbiamo per ora la session 1 dopo aver parlato con un po di persone sono arrivato alle due migliori maniere secondo me è per andare a farmare la session 1 queste maniere non vanno a tenere conto dei rischi che potete avere andando ad utilizzare i protocolli quindi fate sempre attenzione ai rischi c'è il rischio ad esempio dello smart contract o come vedete qui c'è il lending e borrowing quindi avete AVE quindi potreste essere liquidati ci sono tanti rischi quindi ora io andrò a dirvi due strategie vi andrò a dire anche quali sono i rischi però fate attenzione quindi teneteli a mente quindi le due strategie per andare a farmare al meglio secondo me l'head of the scroll sono quelle di andare a farmare su ambient quindi su ambient esiste una pool che è ethereum wrapped restake ethereum che è la versione wrappata del del liquid restaking di kelp e quindi se andate a mettervi nella pool ethereum wrapped restake ethereum voi andate a farmare essenzialmente quattro airdrop e andate a guadagnare tanti marks soprattutto perché notizie da insider tendenzialmente ambient dovrebbe potrebbe avere più punti di altri protocolli perché è un protocollo che piace molto scroll e quindi possibilissimo che ambient vada a guadagnare più punti di altri protocolli e quindi andate a farmare l'airdrop di ambient l'airdrop di scroll possibilmente guadagnando più punti di altri protocolli l'airdrop di kelp andando in par 3 perché se andate a depositare su ambient andate a guadagnare più punti di quelli che avreste se tenete i restake ethereum nel vostro wallet e poi andate a farmare anche se in realtà è un pochino tardi però andate a farmare anche l'airdrop di alien layer quindi andate a farmare quattro airdrop in una sola botta due di questi anche con dei multipli quindi la pool è ethereum wrapped restake ethereum è su ambient se vi dovesse servire magari scrivetemelo vi faccio vedere su discord o su twitter effettivamente dove si trova la pool però tendenzialmente dovrebbe essere molto facile andare su ambient finance e cercare la pool credo che anche questo sia un link no che è go to ambient quindi andate su ambient e nelle pool troverete ethereum wrappery stake di ethereum quindi quella pool vi fa farmare quattro airdrop e possibilmente vi fa farmare al meglio l'airdrop di di scroll perché non andare a fare questo perché ci sono dei rischi quindi c'è il rischio che wrappery stake di ethereum vada a zero c'è il rischio che heken layer crolli c'è il rischio che ambient venga hackerato quindi ci sono un bel po di rischi secondo me tendenzialmente contenuti però con questa strategia i rischi non sono per niente zero e quindi se non vi fidate troppo di questa strategia è possibile andare a utilizzare la seconda ovvero quella di andare a farmare con ave la strategia su ave è abbastanza semplice ve la faccio vedere solo per un motivo ovvero quando andate qui su wrappery ethereum dovete assicurarvi che voi possiate effettivamente dare ethereum come collaterale quasi sempre al 100% proprio perché molte persone stanno effettivamente utilizzando questa strategia però se la trovate in momenti come questo dove non è al 100% potete depositare wrappery ethereum quindi cosa potete fare potete mettere come collaterale ethereum e prendere in prestito wrappery stake di ethereum poi andare a vendere wrappery stake di ethereum per comprare ethereum e fare un loop questo perché i punti vengono contati solo se mettete in collaterale un token e ne prendete un altro quindi se voi mettete a collaterale ethereum e prendete come debito su ethereum il debito non viene contato nei marks quindi non state utilizzando effettivamente ave in quella maniera quindi i marks vengono contati solo se andate a mettere un token e andate a prenderne un altro però ad esempio con questi due token la cosa che si può fare è mettere come collaterale ethereum prendere wrappery stake di ethereum vendere wrappery stake di ethereum oppure prendere usdc e vendere usdc per altri ethereum e poi metterli a collaterale e fare un loop i rischi sono inferiori con wrappery stake di ethereum però il reward potrebbe essere maggiore con usdc perché ad esempio con usdc al momento il prezzo ethereum è abbastanza basso con usdc con questa strategia state andando leggermente in leva su ethereum quindi se ethereum sale tendenzialmente guadagnate ovviamente se ethereum scende andate a perdere però avete il rischio dello smart contract quindi ave è abbastanza famoso però non è impossibile che venga creato avete il rischio di usdc che potrebbe depeggare anche se in realtà in quel caso non è un rischio perché voi ce l'avete come debito quindi in realtà no questo non è un rischio questo è un lato positivo avete il rischio che però ethereum scende andate molto voi veniate liquidati quindi ci possono essere variati rischi i rischi sono molto simili con wrappery stake di ethereum solo che se vi contenete nel prendere in prestito e quindi non andate troppo in loop i rischi sono inferiori su wrappery stake di ethereum quindi queste erano le due strategie per andare a farmare l'air drop di scroll credo che sarà un buon airdrop un altro che ci rimane è ad esempio quello di linea su cui andrò a fare comunque un video però quello di linea mi sembra molto più complicato da fare sibyl questo di scroll potrebbe essere molto più semplice quindi mi sembra l'ultimo uno degli ultimi grossi airdrop che abbiamo in vista al momento però non mi sembra così tanto farmato come gli altri quindi potrebbe essere un ottimo airdrop o comunque dato che al momento non c'è troppo da fare potrebbe essere una buona maniera per andare a utilizzare i propri ethereum che magari state togliendo da blast state togliendo da ziki sync state togliendo da qualsiasi altro airdrop stavate farmando ora che ne rimangono pochi e questo non è così farmato potrebbe essere una buona idea quella di andare a farmare i marks quindi questo era quanto più in là farò anche un video su linea niente se avete domande su come utilizzare ambient o su qualcosa in generale su questo airdrop fatemele pure mi potete scrivere su youtube o su discord rispondo su entrambi a tutti i nostri amici a tutti i nostri amici un'ottore